Allora, vediamo il mobile dietro le tavole di legno per creare la parte ritrostante, le ante. Queste dobbiamo immaginare montate così, che consentivano poi il movimento delle porte qui davanti. E dentro le mensole. Questa è la mensola crollata nel momento dell'eruzione, con sopra i vasi, che ovviamente sono in parte frantumati. Sono oggetti in vetro, piccole bottigliette, piatti, ma anche in ceramica e adesso man mano scopriamo che altro c'è.